Non so che la piacere pureta? Faccio 25 No Io minimo 23 faccio Con tutti i dolci che ci mangiamo dopo No, 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 no E poi fare una fotografia No, 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 no No, adesso mi ti vede Fai parte della cretina Mi ti ha da fare? Non mi se vede Quando cada è perfetta No Nel senso che mi ti ha da fare Quando non c'è parte Allora mi ti fai fotografia Ma non ho capito Quando cada è perfetta Perché lì Guarda Elisabetta che fai Che sta a sentire magrillo Quanto faccio? Allora questa Elisa Chi che l'ha andata? E dai la Maria Vittoria è andata a pranzo Un po' cantante Faccio 22? No, di pranzo facciamo 2,50 Quanto ho? Sì, dopo un giorno dopo? Sì 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 Perché dopo mi vai in passeggiata a vestire la maschera Io no Perché hai di lei Ma no, io faccio pieno lei Sì Sì Mamma, vuoi fare come ieri? Ho dato da mangiare alla bambina perché lei doveva mangiare a lei Non se nemmeno fare Ho dato da mangiare alla bambina Dato che io Non avevo problemi Sì Sì Ho dato io Vittimo Che be... Che perde con gli omiti che no Che vita è monotona Ah sì Che vita è monotona Poi Come fa qualche durma omica? No, no Ma c'è fatica Siamo andate ad ascoltare anche... Sì Ah ci mi ha detto a mamma Bello Orribile Cosa che non mi sono anche desmentegare Sì Ah Mi sono anche desmentegare Mi sono anche desmentegare Sì Sì Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutta questa gente piena di morbini Io non ho monica E parati Sì Che Ma hai fatto anche il dolce? No L'è un pezzettino di strudel che ho fatto il mio mercoledì Questa non E tutte fritelle perché pensi... Che le ha fatte sto anno Eh? Non le ho ancora fatte E poi Con mio papà e mia sorella siamo andati a... A grado Ad ascoltare Le mie mie amici Ma morite al freddo Max Gelsi siamo andati ad ascoltare Lo conosci Quella cicciola che suona con le mie amici Buon E' bella amica Così che è molto Non so Non so E lei è proprio che sembri a fare la sconsolata No, no, no No, no Ah, ecco ti ho messo ma io proprio la sconsolata No, no Adelì Che brava è Sì ma lei era strana all'intanto dimagrire